All'esterno dell'ospedale Manzoni di Lecco c'è grande attesa per i tamponi che vengono effettuati ai giovani studenti, ai membri del personale scolastico. Noi ci allontaniamo dalla zona dove tutti i giovani studenti stanno aspettando per evitare di inquadrarli da vicino. Come detto c'è tanta gente che sta aspettando il suo turno per fare un tampone. Classi intere di diverso ordine e grado molti giovani studenti delle scuole medie e anche elementari che aspettano insieme a tutta la loro classe il turno per effettuare il tampone. Classi che aspettano perché un compagno, un membro della classe è risultato essere positivo. Di conseguenza la procedura prevede un isolamento di tutti gli altri studenti e al termine di questo isolamento il tampone qui all'ospedale Manzoni. Tampone che può essere anche fatto senza prenotazione. La procedura in realtà prevede di passare o dal medico di base se si riscontrano dei sintomi in alternativa di essere contattati dalla scuola se viene riscontrato appunto uno studente positivo nella propria classe. Contattati dalla scuola gli studenti e i loro genitori compilano un modulo di autodichiarazione per poi procedere con il tampone. Per l'appunto il modulo viene fornito o dalla scuola o addirittura da ATS direttamente in ospedale. Infatti come avete letto prima è indicata anche l'ingresso collocato al piano menu 1 dell'ospedale per effettuare il tampone senza prenotazione. Sono molte le persone che stanno aspettando il proprio turno. Come detto per l'appunto molti sono studenti che hanno avuto un compagno positivo. Ci sono però anche dei minorenni che hanno riscontrato dei sintomi e di conseguenza passando dal medico di base hanno ritenuto corretto fare il tampone per verificare la propria positività o meno al covid-19. Di conseguenza ci sono anche per l'appunto studenti singoli ma ci sono anche alcuni docenti che si sono presentati o su richiesta della scuola oppure per verificare spontaneamente di non essere positivi al coronavirus. Per esempio abbiamo incontrato abbiamo raccolto la testimonianza di due professoresse una delle quali era qui perché ha avuto contatti con una collega del corpo docente risultata poi positiva e per la sua cautela si è presentata all'ospedale Manzoni per effettuare il tampone mentre un'altra professoressa dopo aver avuto uno studente positivo in una delle sue classi, parliamo di una scuola superiore, è stata contattata dalla scuola dopo aver prestato servizio per tre giorni. Al quarto giorno è stato richiesto dalla scuola di presentarsi a fare il tampone nella giornata di ieri. Professoressa non aveva preso prima contatti con l'ospedale, si è presentata ma è stata rimandata indietro perché per l'appunto non era stata presa, non erano stati presi diciamo contatti con l'ospedale, di conseguenza è dovuta tornare quest'oggi per effettuare il tampone. I tempi di attesa sono abbastanza lunghi, si parla di due ore, due ore e mezza per le persone che si sono presentate qui per l'appunto alle nove, nove meno un quarto del mattino c'è da dire che i tempi potrebbero essersi allungati perché ci sono come detto prima intere classi che stanno aspettando, ne abbiamo contate almeno due o tre, intere classi che stanno aspettando di effettuare il tampone, di conseguenza chi si è presentato in un orario, insomma chi si è presentato più tardi rischia di fare una coda anche più lunga. La procedura prevede che venga consegnato un numerino con cui poi ci si presenta, si viene chiamati per fare il tampone, di conseguenza non ci sono file vere e proprie in modo da causare un assembramento, le persone vengono fatte aspettare, questa è una delle altre critiche che vengono mosse all'organizzazione, le persone vengono fatte aspettare come potete vedere da molto lontano fuori, per l'appunto non all'interno ma all'esterno. Molte persone si stanno lamentando chiaramente della temperatura, però queste sono le procedure che vengono utilizzate per garantire una maggiore sicurezza. Questa è la situazione all'ospedale Manzoni di Lecco, attese abbastanza lunghe, tante persone in attesa di effettuare il tampone e vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni sempre qui su Lecco FM. Grazie.